Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Dalle 18.45 allo Stadio Olimpico si giocherà Lazio Celtic per la Champions League. La mobilità pubblica e privata nella zona del Foro Italico è raccontata in dettaglio su romamobilita.it. In centro proseguono i lavori notturni di riqualificazione del Traforo Umberto I. Nelle ore di cantiere, ovvero a partire dalle 22, deviazione anche per la linea di bus 71. I dettagli anche in questo caso su romamobilita.it.